A causa della situazione mondiale in corso e in accordo con le autorità e la chiesa locale, l'annunciato viaggio apostolico a Malta è stato rinviato a data da definirsi. Lo ha dichiarato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il viaggio di Papa Francesco a Malta e Gozo era in programma il 31 maggio prossimo. Intanto questa mattina Bergoglio ha invitato i fedeli a pregare per chi, a causa del coronavirus, ha problemi economici. Ieri invece l'Angelus e poi la benedizione ha facciato dalla finestra su piazza San Pietro, deserta. Vediamo. Preghiamo oggi per le persone che per la pandemia stanno incominciando a sentire problemi economici perché non possono lavorare e tutto questo ricade sulla famiglia. Preghiamo per la gente che ha questo problema. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo, invito tutti i capi delle chiese e il leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni a invocare l'Altissimo Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù, nostro Signore, ci ha insegnato. invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno, tutti insieme. Nel giorno in cui molti cristiani ricordano l'annuncio alla Vergine Maria dell'incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare le preghiere unanime di tutti i Suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria del Cristo risorto. Con questa medesima intenzione, venerdì prossimo 27 marzo, alle ore 18, presiderò un momento di preghiera sul Sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota, fin d'ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termino darò la benedizione, urbi e torbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera. dell'indulgenza plenaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.